Allora, praticamente oggi faccio un video un pochettino diverso, ma prima devo vedere se sto registrando l'audio. Come sapete in questo momento mi sto creando lo studio nuovo per fare i video e questo studio nuovo ha un grossissimo problema, c'è il problema del rimbombo, quindi sto creando dei pannelli fonoassorbenti apposta per eliminare il rimbombo e oggi vi voglio far vedere come si fanno. Ve ne faccio vedere uno. Questo è il pannello fonoassorbente che mi sono fatto. Praticamente questi pannelli fonoassorbenti si possono fare in qualsiasi maniera, con qualsiasi forma. Io ho deciso di fare un pannello normale rettangolare con grandezza 120 cm x 60, tutti con questa grandezza qua. Quindi oggi vi dico cosa dovete fare per fare un pannello come questo. Più che altro perché ho deciso di farmi questi pannelli? Perché qualcuno mi dirà, sì ma li vendono già, perché ti sei fatto tutto questo sbattimento di farti i pannelli? Perché praticamente li vendono e questi pannelli costano. Si chiamano pannelli design, diciamo perché sono più belli da vedere del solito bugnato, delle solite punte in spugna, ma costa, può costare anche una sessantina di euro. Io ho visto che con, non mi ricordo quanto, devo fare il conto, 260 più 1,70, con circa 15 euro, più o meno, poco più di 15 euro, riusciamo a farci un pannello del genere. Ovviamente 15 euro cosa vuol dire? Poi vi dirò tutti i prezzi, tutte le cose che servono, ma 15 euro è il materiale per fare questo pannello. Poi ci sono alcune cose in più che ci servono per lavorare i materiali, come ad esempio i chiodi, il seghetto, il seghetto alternativo, la graffettatrice. Ci sono cose che uno o ha in casa oppure deve comprarle, quindi quelle sono cose che costano e che quindi hanno un costo in più che va a riversarsi anche nel pannello. Ma comunque di sicuro non spenderete mai 60 euro. Poi dipende, se dovete farvi un pannello, raga, compratelo direttamente. Io devo farmene circa 8 più alcuni pannelli doppi che dopo vi farò vedere, quindi ne ho un bel numero da fare. Mi sono fatto il conto, visto che avrei dovuto spendere 500-600 euro di pannelli, quindi ho detto, aspetta un attimo, prova a farmeli io, vedo se è una cosa possibile. È una cosa possibile da fare, la possono fare tutti, ci va solo un pochettino di pazienza, quindi adesso vi spiego come farla. Prima però voglio spiegarvi una cosa molto importante, perché questi sono pannelli fonoassorbenti. Fa un caldo, raga, mondiale! E bisogna stare molto attenti a questa cosa, perché pannello fonoassorbente vuol dire che serve per il rimbombo. Quindi se io suono la batteria all'interno di una stanza e in quella stanza rimbomba, c'entra un pannello fonoassorbente, cioè che prende il suono e se lo tiene. Per questo si chiama fonoassorbente, ed è diversissimo da fonoisolante. Vi voglio dire questa cosa, perché tante volte sembra la stessa cosa, fonoassorbente e fonoisolante, invece sono due cose completamente diverse. Fonoassorbente è quello che vi ho appena spiegato, quindi mettiamo cose all'interno della stanza perché il suono sia migliore dentro la stanza, quindi lo facciamo per noi, praticamente, che ascoltiamo. Fonoisolante, invece, isolante significa che deve isolare verso l'esterno, o l'esterno verso l'interno. Quindi questi pannelli non sono fonoisolanti, quindi se voi avete dei problemi col vicinato, non comprate questi pannelli, non fatevi questi pannelli, perché non serviranno a nulla, ok? Poi se avete dubbi comunque scrivetemi tutto qui sotto nei commenti, vi rispondo cose, eccetera. Oggi vi farò vedere tutti gli step che bisogna fare per crearsi un pannello, senza farvi vedere come tagliare una cosa e come tagliare l'altra. Vi faccio vedere tutti gli step, mi sono creato un bel po' di pannelli con tutti i vari step di come si fa questo pannello e vi faccio vedere tutti gli step e intanto ve lo spiego. Quindi questa è la cosa finale, andiamo da capo. Appoggiamolo qui, tipo. Prima cosa da fare qual è? Comprare dei listelli di questo tipo. Ognuno poi se lo può fare come vuole, ma io vi faccio vedere come l'ho fatto io. Due listelli di questi qua, da Lerwa Merlin, da Brico, da dove volete, tanto li trovate dappertutto. Questi listelli qua sono lunghi 2 metri, sono spessi 2 centimetri e larghi 5 centimetri. Questi qua ci serviranno per farci il nostro telaio intorno e sarà 120 dai due lati lunghi e 60 dai due lati più corti. Quindi 120 più 60 più 120 più 60 fa 3 metri 60. Quindi ovviamente ho dovuto comprare 4 metri, 2 metri per ogni listello. Oltre questi comprate anche altri due listelli come questi, sempre da 2 metri, ma sto giro sono spessi diversi. Sono sempre 5 centimetri di larghezza, ma spessore solamente 1 centimetro. Poi vi spiego bene il perché di questa cosa. Questi listelli servono sempre più o meno per il telaio, ma un po' diversamente. Dopo vi spiego. Allora, prima cosa da fare, riprendiamo i listelli da 2 centimetri e bisogna tagliarli. Quindi dovremo farci due listelli da 1 metro e 20, due listelli da 60 centimetri, che ovviamente ho già fatto, perché sennò il video sarebbe durato 6 anni e mezzo. Due da 120 e due listelli da 60 centimetri per farci il nostro telaio. Come facciamo a fare il nostro telaio? Dovremo semplicemente andare a prendere i nostri due listelli, quello da 60 centimetri e quello da 120 centimetri, metterli uno sopra l'altro e andarli a inchiodare. Quindi metteremo due chiodi qui sopra e lo faremo per tutto il telaio. Quindi qui andremo poi a mettergli l'altro da 120 e faremo il nostro rettangolo, che sarà così. Ovviamente è già pronto. Ecco qua il nostro telaio. Devo sempre andare in fondo per farvelo vedere completo. Eccolo qua. Questo è il mio telaio completo. Come potete vedere, io gli ho messo due chiodini per ogni lato, ma non solo, perché per sicurezza, per non rischiare che i chiodini non tengano, ho deciso anche di graffettare il tutto e l'ho fatto praticamente sempre, per tutte le cose che vi farò vedere oggi. Mettimi a fuoco, grazie. Metti a fuoco lui, per favore. Questo devi mettere a fuoco. Quindi queste graffette si mettono con la graffettatrice. Una graffettatrice costa circa sui 20 euro, se non volete chissà che graffettatrice elettrica pazzesca. Quindi secondo me è una cosa importante da fare, perché le graffette tengono, ne potete mettere quante volete, e aiutano a tenere salda tutta la struttura. Dopo aver fatto questa struttura qua con i listelli da due centimetri, dobbiamo andare a mettere gli altri listelli, quelli solo da un centimetro. Dove li mettiamo? Mo' vi spiego. Eccoli qui. Li ho messi in questo modo qua. Vi faccio vedere più da vicino. Come faccio? Così. Ne ho messi due e li ho messi equidistanti uno dall'altro, in modo da formare un pochettino una gabbia. Cosa mi serve questa cosa? Mi serve perché nel momento in cui devo andare a mettere quello che mi funzionerà da fonoassorbente veramente, e sarà la lana di roccia, e voi mi direte, la lana di roccia però Luca è nociva? Ok, va bene tutto. La lana di roccia è nociva, anche se in realtà la lana di roccia, mi sono informato un pochettino, e mi ha spiegato che era nociva. Adesso non è più come una volta. Però comunque, se non volete usare la lana di roccia, potete usare anche altro. Quindi questo mi servirà perché nel momento in cui andrò ad appoggiare la lana di roccia qui, se non ho qualcosa che tiene, diciamo, la lana di roccia potrà entrare e uscire dal pannello, quindi è un po' un problema. Invece grazie a questo, la mia lana di roccia si appoggerà qua, e adesso vi farò vedere, e non potrà più uscire. Perché non potrà più uscire? Perché voi mi dite, uscirà da davanti? E invece no. Ah no, cacchio, mi sono dimenticato di far vedere questa cosa. La lana di roccia. Ah no, mi sono dimenticato anche un'altra cosa. Andate un attimo indietro, e questi piccoli listelli qua, che sono quelli da un centimetro, ricordatevi che per fare i pannelli di questa dimensione, li dobbiamo fare di 56 centimetri. La lana di roccia, io l'ho comprata direttamente già in pannelli, ed è questa qua. Fanno i pannelli perfettamente come li volevo io, cioè 120x60, quindi è veramente comodissima. Questo pannello di lana di roccia qua, costa tipo 3,60 euro, quindi non è che costi così tanto. Torniamo indietro al pannello di prima, siamo arrivati a mettere la lana di roccia. Messo la lana di roccia dentro il pannello in questo modo, e oltre avergli messo la lana di roccia, che come vedete con il listello non può scappare, non può scappare perché gli ho aggiunto altri due listelli, dall'altra parte, vi ricordate che era quattro? In questo modo non si può proprio muovere, è perfettamente imprigionata all'interno del pannello. Poi dopo, come avete visto nel pannello finale, gli andrò a mettere anche la fodera, diciamo, di tessuto intorno, non ci saranno proprio più problemi, non si muoverà più assolutamente. Ricordatevi sempre, quando inchiodate i listelli, di mettergli anche le graffette, perché è importantissimo. Queste graffette qua vi salveranno la vita. Per mettere una graffetta, cosa basta fare? Basta avvicinare la graffettatrice contro le due pareti che si vogliono graffettare, si schiaccia e ha messo la graffetta. Il pannello in realtà è finito, è solamente più da foderare. Vi faccio vedere un'altra cosa, però. Questo pannello è un pannello spesso 5, come vi ho detto, eccetera, eccetera, eccetera. E questo tipo di pannello qua, io lo metterò in giro per la stanza sui muri. Però ho deciso, soprattutto per le frequenze basse, di farmi anche delle trappole per bassi. E mi hanno spiegato che, per fare delle simili trappole per bassi, o comunque qualcosa che possa aiutarmi di più ad assorbire, mi hanno detto di unire due pannelli. Quindi i pannelli che ho fatto, rifarli uguali e poi unirne due. Quindi vi faccio vedere. Eccolo qui. Il pannello è identico, come potete vedere a quello di prima, ma è spesso il doppio. Quindi dovrebbe assorbire molto di più. Una cosa che non vi ho detto, molto importante per quanto riguarda la lana di roccia, è la densità della lana di roccia, perché ci sono vari tipi di lana di roccia. Questo tipo qua è densa 50 kg al metro quadro. Più si va su con il peso, più è densa. Però state attenti, perché questa qui, 50 kg al metro quadro, è una densità media, né troppo densa, né troppo poco. Quelle troppo troppo dense, quando si va su, ad esempio a 100 kg al metro quadro, 120 kg al metro quadro, la lana di roccia incomincia a non assorbire più. Cosa significa? Significa che quando gli arriva il suono, non lo assorbe, ma lo respinge. Fa come un muro, in pratica, perché è molto molto densa. Quindi il suono arriva, lo respinge e quindi fa rimbombare tutto. Quella lana di roccia con densità maggiore, infatti, è usata per isolare. Si mette a tutte le pareti della stanza, in modo tale che faccia rimbalzare il suono e non lo faccia andare verso l'esterno. Quindi questa è la trappola per bassi, spessa al doppio, dove ho messo due pannelli attaccati. Li ho attaccati tutti usando delle graffette. Tutto il perimetro della mia trappola per bassi, ho messo delle graffette. Quindi usatene tante. Costano poco, usatene tante. Dopo aver fatto questo, io ho foderato solamente dalla parte davanti, perché dalla parte dietro non mi serve, perché o lo attaccherò al muro, o lo appenderò al soffitto, come farò con le base straps. Sono andato a prendere dalle ruole Merlin del tessuto, questo qui è un tessuto, si chiama tessuto Anna, se non sbaglio, per fare un pannello da 120x60, l'ho pagato più o meno sui 7 euro. Quindi non è una spesa enorme, anche se forse è la cosa che costa di più. Ovviamente quando tagliate il pezzo di tessuto, ragazzi, ricordatevi che 120x60 è il perimetro, ma dovete andare anche a coprire questa parte e questa parte, quindi tagliatene un po' di più. Tagliate ad esempio, non lo so, 160x80 almeno, perché così non rischiate di fare lo sbaglio che ho fatto io, che poi in realtà va bene lo stesso, cioè non c'è problema, non ha un problema, questo pannello lo posso usare tranquillamente, però almeno siete tranquilli, perché se sbagliate a tagliare, dovete praticamente buttare via quel pezzo di stoffa, perché è inutilizzabile, non si può più utilizzare. O vi fate un pannello più piccolino, oppure è impossibile. La cosa importante, la cosa un pochettino più difficile da fare, è quella di andare a fermare il tessuto, come vedete e come sempre, ho usato delle graffette in tutto il perimetro, come si può vedere. La cosa importantissima, raga, è quella di tirare il più possibile il tessuto, perché se non lo tiriamo bene, fa delle gobbe, e già qui qualche gobbetta l'ha fatta, però voi tiratelo il più possibile, non preoccupatevi, non si rompe. Lo graffettate bene e sarete a posto. Quindi io spero con questo video di avervi aiutato un pochettino per farvi capire come fare un pannello. Se avete qualsiasi domanda, mi raccomando, scrivetemi qui sotto nei commenti, non fatevi nessun tipo di problema, e basta. Io vi saluto qui, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!